Io credo che sia importante che ci siano diversi candidati, più candidati che abbiano voglia di mettere in gioco le loro idee, i loro programmi, i loro progetti, perché di questo si tratta. Ritengo però che ciascun candidato dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire se la sua battaglia è una battaglia per la leadership del Paese oppure per conquistare posizioni all'interno del partito.